Da oggi è possibile presentare le domande per richiedere il reddito di cittadinanza nei CAF e negli uffici postali. Noi con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo venuti presso il CAF della CGL di Chieti per vedere qual è la situazione. Germano Di Laudo, segretario generale della CGL della provincia di Chieti, qual è la situazione presso i vostri uffici per questa prima giornata di presentazione delle domande del reddito di cittadinanza? Dal punto di vista dell'affluenza è una cosa diciamo ordinata, non c'è una situazione ingestibile, questo sia per una questione di organizzazione che la nostra struttura ha messo in piedi, in sinergia tra CGL, CAF e il nostro padronato e con l'utilizzo di tutte le professionalità a nostra disposizione, con un lavoro di filtro, però diciamo che è una situazione abbastanza tranquilla. Quali sono i numeri in vostro possesso? Quante domande sono pervenute al vostro ufficio? Dai nostri archivi potenziali beneficiari ne sono circa 2000 nella nostra provincia, quindi ci stiamo attrezzando anche oltre che per dare un servizio a queste persone, anche per eventuali nuove persone che si rivolgono nelle nostre strutture, su tutto il territorio provinciale. Chi può avere diritto a questo reddito di cittadinanza? Vogliamo ricordarlo? Diciamo che devono, chiunque può avere la sensazione di avere possibilità di accedere a questo strumento, deve rivolgersi ai nostri uffici per poter avere situazioni e informazioni personalizzate. Non possono essere date informazioni a livello generale perché corriamo il rischio di dare un cattivo servizio all'utenza invece di dare un servizio di qualità. Da molto che è in fila? No, 10 minuti. No, fila no. Già ho presentato, ho fatto tutto, devo solo aspettare un documento. È stato complicato presentare questa domanda? Assolutamente no. Se l'IMS accetterà le richieste mi manderanno un sms, quindi l'informazione in questo senso ha funzionato. E se non è un sms sarà un gmail o un email. Lo trova giusto questo provvedimento? Speriamo di sì, che sia giusto per tutti. Che sia un aiuto per chi ne ha proprio bisogno. Ci voleva, perché ci sono molte persone in difficoltà. Noi per primi, perché purtroppo siamo senza lavoro. In tutte le loro c'è una sicurezza sociale e economica. L'unico paese è l'Italia. E io mi sono battuto, anche tra gli amici, per far capire loro che ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno anche perché i poveri sono aumentati e quindi il povero cosa deve fare se non ha un aiuto. Quattro anni che siamo senza lavoro, tutti e due, e non si sa come si fa arrivare a fine mese, perché non c'è lavoro per nessuno. Né al nero non c'è, né niente. Io mi arrancio a fare qualcosa, però cerchiamo di tirare avanti.